A Pescara nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ci sarà anche la notte dedicata agli sposi, la notte bianca degli sposi. Cristian Sorbello, l'organizzatore di questa manifestazione, come mai avete scelto proprio la notte del 10 agosto? La notte del 10 agosto sicuramente, la notte magica, la notte di San Lorenzo, la notte in cui si esprimono i desideri e quale notte migliore per esprimere il desiderio più bello, quello di sposarsi. Ci sarà questa manifestazione, ingresso gratuito, tra l'altro ci sarà anche una particolarità che riguarderà la violenza sulle donne. Voi farete qualcosa per sensibilizzare l'opinione pubblica? Esattamente, in quanto organizzatore di matrimoni con le spose e con il comune di Pescara abbiamo pensato di far lanciare questo bellissimo messaggio. Quindi sia le mie modelle, alcune delle mie modelle indosseranno delle scarpe rosse e quante ci stanno guardando in questo momento sono invitati, ci piacerebbe, portassero la loro testimonianza portando giusto appunto a Piazza Salotto delle scarpe rosse da piazzare vicino al palco. Notte bianca degli sposi, una domanda un po' fuori dall'argomento proprio specifico, insomma c'è un calo dei matrimoni oppure no? No, sicuramente no, anzi le coppie che si sposano in questo periodo sono anche molto molto esigenti, quindi no, no, i matrimoni ci stanno sempre, viva l'amore, quindi sposatevi!